Per anni ha compiuto violenze sessuali nei confronti della figlia e della convivente. Per questa ragione un uomo di 44 anni di corato è stato arrestato dagli agenti di polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, messa la GIP per il Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. Le indagini condotte dai poliziotti della squadra mobile, sezione specializzata per i reati e i danni di minori e reati sessuali, hanno consentito di raccogliere concreti elementi di responsabilità nei confronti dell'uomo che dal 2009 al 2016, approfittando della giovane età della figlia e della sua convivente, l'ha indotta a tenere rapporti sessuali facendole credere che si trattasse di un gioco. Successivamente, quando la ragazza è divenuta adolescente, il 44 anni le ha imposto rapporti sessuali completi. Tutto è terminato a settembre dello scorso anno, quando la ragazza ha raccontato alla mamma quanto era stata costretta a subire da anni tra le mura domestiche, la donna ha denunciato il comivente, allontanandolo immediatamente dalla propria abitazione.